Ancora deserta l'asta per l'alienazione della proprietà comunale nell'ambito del piano di lottizzazione e clusonia, come vi comporterete adesso? In parte era prevedibile, ho detto anche in consiglio, perché secondo me, conoscendo bene l'ambiente che ci circonda, un po' di cartello ovviamente, o perlomeno il tentativo di cartello viene fatto. Quindi è chiaro che qualcosina abbasseremo in maniera tale che questo momento di defiance, di partecipazione venga meno. Io sono convinto che con poco al di sotto di quella cifra l'offerta ci sarà. Quindi nuova asta? Senz'altro, prima della fine dell'amministrazione nuova asta. A questa operazione era connessa anche quella dell'ex ospedale San Biagio? Da questa operazione si... Ci sono soldi per pagare le rate dell'ospedale San Biagio, ritorniamoci che l'abbiamo comunque già pagata con disponibilità di cassa per sistemare la situazione del patto di stabilità. Certo era sistemata, noi contavamo e contiamo di recuperare una parte che serva per pagare le rate dell'ospedale, una parte eventualmente per esercitare il diritto di preazione sull'Angelo Mai, che a sua volta poteva essere, dietro l'accusa di immobiliarismo fatta dall'attuale sindaco, inserito in un'operazione per portare a casa altre 500-600 mila euro. La prossima amministrazione deciderà se esercitare il diritto di preazione o farà le sue valutazioni. Comunque qualunque sia la cifra con cui i terreni verranno venduti, ritenete di poter pagare le prossime, almeno una rata dell'ospedale? Sì, poi nella programmazione ci sono varie le proprietà che il Comune ha a disposizione e che c'erano già nel programma iniziale, chi si ricorda i terreni di via Sales che ci sono tuttora, i terreni di via Pozzi che ci sono tuttora, la palazzina di Piazza Sant'Anna che è stata inserita nell'eventuale piano che poi sarebbe utilizzo per pagare una proprietà che abbiamo acquistato, perché nel pacchetto c'era anche la palazzina di Piazza Sant'Anna e se uno va a vedere la rivalutazione che si è avuta in questi 5 anni capisci che l'operazione economicamente era vantaggiosa.